Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video dove andremo a vedere come si inseriscono le giuste parole chiave quindi si fa una ricerca a sé o per andare a ottimizzare le inserzioni all'interno di Amazon. Cosa si intende? Si intende andare a ottimizzare il titolo, le descrizioni, i punti elenco delle pagine prodotto. Quindi, tantissimo, ve lo chiedete come faccio a sapere che parole chiave inserire nei titoli e così via. Adesso, oggi come esempio, prenderemo i tappetini per yoga, no? In questo caso ovviamente è solamente un esempio voi non andate a vendere questi prodotti comunque stracompetitiva come nicchia ma comunque fate le vostre ricerche prima e come per ricercare i prodotti, uguale per le parole chiave, si utilizza sempre un software, in questo caso Helium 10 che ovviamente vi consiglio di ottenere, che ovviamente è a pagamento ma che vi permetterà di avere una gestione a 360 gradi del business di Amazon, quindi vi fornirà tutte le statistiche e così via. Ma andiamo nel video di oggi dove andremo a, appunto, capire quali sono le parole chiave più inerenti a questo tipo di prodotto. Facciamo finta che vogliamo creare un'inserzione in un tappetino per yoga e quindi dobbiamo andare a selezionare quali sono le parole chiave, ok, sulle quali vogliamo rencare, vogliamo scalare la classifica e vogliamo appunto generare poi quelle che sono le vendite organiche. E su cui poi vogliamo anche andare a fare delle campagne sponsorizzate, come ho visto in un altro video. Per fare questo, ok, sicuramente la prima cosa da fare una volta individuato il prodotto principale, ok, e ipotizzando che questa sia la parola chiave principale per questo tipo di prodotto, noi la cosa che faremo è attivare l'estensione di Helium 10, in questo modo, ora lo vediamo insieme, e ci caricherà in questo momento tutti i prodotti che sono nella prima pagina, ok, con le relative entrate. Noi le ordineremo per entrate, ok, in questo caso questo tappetino qua è quello che fattura di più, è quello che ha un maggior volume di vendite. E allora in questo caso cosa faremo? Faremo una ricerca per parole chiave con questo software, ovviamente, su questo prodotto. Adesso ho raggiunto questa nuova funzionalità, perciò basterà selezionarlo e fare una ricerca per parole chiave. In questo caso attenderemo un attimo che verrà caricato il tutto, ovviamente si aprirà Helium 10 e ci farà vendere tutte le parole chiave inerenti a questo prodotto, e lui sotto appunto ce le farà comparire tutte in questo elenco, ok, tutte le parole chiave nelle quali sta arrencando questo prodotto. Ricordiamoci che è il prodotto che sta vendendo di più, ok, all'interno di quella parola chiave, di questa nicchia dei tappetini da yoga. Perciò, cosa facciamo in questo caso? La prima cosa che facciamo è ordinare le parole chiave per volumi di ricerca. Perciò cliccheremo qua su nei volumi di ricerca e lui ce le ordinerà. Però qua, nonostante troveremo le parole chiave, diciamo, più cercate, inerenti a questo prodotto, non sempre compariranno quelle che sono adatte, ok, che ci serviranno per andare a far arrencare il prodotto. Questo come lo capiamo? Semplicemente andando a capire che tipo di prodotto stiamo vendendo. Ad esempio, se questo è un tappetino per yoga, questa parola chiave che è elastico, fitness, magari non c'è da tantissimo, tipo stuoia mare, ad esempio. Tutte queste cose qua. O asciugamano da palestra. Quindi andremo sicuramente a selezionare le parole chiave, ok, che hanno maggior volume di ricerca, ma che sono inerenti al prodotto. La prima cosa che faremo è questa. Però dobbiamo ovviamente considerarne poche di queste. Non c'è bisogno che ne prendiamo tante. Basta prendiamo le prime dieci che sono inerenti a questo prodotto. Perciò le altre le vari le eliminiamo con la X e facciamo rimanere solamente, ad esempio, le prime dieci strettamente necessarie. Questo perché ce ne servono poche? Perché comunque sono le parole chiave più ricercate. Essendo le parole chiave più ricercate, vuol dire che sono le parole chiave dove c'è più competizione e dove sarà più difficile far rincare il prodotto. Quindi ci serviranno solamente per fare in modo che il prodotto compaia anche lì, ok, ma lo faremo arrivare piano piano. Quindi sicuramente sono a tenere in considerazione, ma lo step veramente importante avviene successivamente. Quando noi andremo a inserire nella ricerca organica del prodotto in questione, in questo caso il tappetino di yoga più venduto, andremo a mettere la sua classifica. Quindi andremo a cercare le parole chiave in cui questo prodotto compare, ad esempio, dalla posizione 1 alla posizione 10, quindi compare nelle prime dieci posizioni. Faremo partire la ricerca. Automaticamente lui ce le darà, ok? Ci dà il rank organico. Il rank organico non vuol dire altro che il rank senza le campagne pubblicitarie, quindi dove lui si è classificato e sta generando vendite organiche senza più investire un euro in campagna, sostanzialmente. E queste lui ce le dà, ok? Ci dà quelle più inerenti. Noi prenderemo queste parole chiave qua, facciamo un esempio, quelle con un volume di ricerca, ad esempio, fino alle 580 visualizzazioni mensili. prenderemo queste e salveremo sia queste parole chiave che quelle con il più alto volume di ricerca inerenti al prodotto in un file a parte. E quelle ci serviranno per prendere spunto e andare a creare quella che è la nostra inserzione successivamente. In realtà ci sono tantissimi altri tool all'interno di L110 che ci permettano di fare questa cosa qui, ma io vi spiego il modo più semplice, il modo anche più rapido, diciamo, per farlo senza andare a scervellarci troppo. Una volta fatto questo, noi avremo tutte le parole chiave, non ci resta che andare a creare la nostra pagina prodotto e con le parole chiave che abbiamo selezionato per volume di ricerca inerenti al prodotto andare a creare, prendendo spunto dai competitor, ad esempio dal competitor che abbiamo preso prima, qui apriremo la pagina prodotto, la metteremo a fianco alla nostra, andremo piano piano ad inserire le parole chiave e andare a inserire i titoli e le descrizioni. Adesso con le nuove policy, come ho detto anche già in un altro video, il titolo deve essere di 80 caratteri, perciò non c'è bisogno che inseriti titoli lunghissimi, basta che siano coincisi con le giuste parole chiave e inoltre i punti elenco, invece, allo stesso modo, l'importante è che non siano più lunghi di 200 caratteri per evitare un errore di indicizzazione. Come si fa a vedere una buona indicizzazione? Vi consiglio di scaricare questo software che poi magari vi linkerò, ovviamente non sono affiliato, ma è totalmente gratuito che si chiama Advigator che vi permette di vedere l'ottimizzazione SEO della pagina prodotto. In questo caso è un 85%, questo prodotto, vedete, prende in considerazione diverse metri e questo software è un'estensione che dovete applicare. Mi permette di vedere tutto, no? Come siete messi in generale, vi date un'occhiata. Mi raccomando, sempre curiosità, andatevi a sponciare questi software che mi permettano di essere sempre al 100% sul pezzo di Amazon. E quindi, in questo caso, un 85% di ottimizzazione è veramente buona. Ok, quindi ha fatto un buon lavoro. Inoltre, se avete un brand registrato, potete inserire i contenuti al plus, come ha fatto in questo caso questo venditore, dove appunto vedete che potete andare a personalizzare e sotto questo aspetto potete veramente sbizzarrirvi come volete, senza preoccuparvi di niente, perché alla fine è il vostro marchio, e perciò, ripetendo i video scorsi, avere un marchio registrato è sempre un vantaggio all'interno di Amazon. Quindi, ripetendo, queste sono le parole chiave che abbiamo trovato, quelle inerenti per volumi di ricerca più alti, e poi quelle in cui il nostro concorrente renca, diciamo, solitamente si prendono le prime 20 posizioni al massimo, non di più perché altrimenti si va, si rischia di andare troppo indietro, mentre noi vogliamo comparire le prime posizioni, ovviamente. Queste parole chiave, inoltre, una volta le abbiamo utilizzate per fare titolo, descrizione, puntelenco, le potremo anche utilizzare per le nostre campagne sponsorizzate. Le campagne sponsorizzate vi ho fatto già un video a parte su come si impostano, su cosa sono, eccetera. Magari ve lo linko alla fine di questo video. Comunque, potete inserire quelle parole chiave all'interno delle campagne manuali, sia generica, a frase, e a corrispondenza esatta. E quindi, andare poi, a partire da quelle parole chiave, andare a trovare altre parole chiave sempre inerente a questo prodotto. Quindi, questo era per farvi vedere come si selezionano le parole chiave inerenti appunto a un prodotto che state caricando, un prodotto nuovo, un prodotto che sta per essere lanciato attraverso delle campagne, e per fare il primo setup, diciamo. Quindi, questa è la base. Vi consiglio, come avevo detto inizialmente, di scaricare dei software, perché altrimenti senza software è veramente impossibile fare questo tipo di ricerche. In questo caso, la Lum10, che è il migliore, a parer mio, sul mercato. C'è anche Jungle Scout, ma non è all'altezza. Ok? Ovviamente, Alim10 costa un po' di più, e AdVigator, ovviamente, invece è gratuito, vi permette di avere un'analisi diretta sull'ottimizzazione SEO della pagina. Ok? Perciò, ragazzi, io spero che questo video vi sia stato aiuto, non è neanche troppo lungo. Mi raccomando, seguitelo, seguitelo questi passaggi per avere una pagina prodotto, ottimizzata, e sempre prendendo spunto anche dai competitor e da quelli che stanno facendo gli altri. Io davvero vi ringrazio per la visione, per l'attenzione che avete dedicato. Lasciate pure un like, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram, dove tutti i giorni quasi pubblico gli aggiornamenti relativi ad Amazon. E noi ci vediamo al prossimo video tecnico di Amazon, con nuove funzionalità, nuovi aggiornamenti, e veramente nuove possibilità di crescita all'interno di questo business. Grazie a tutti ragazzi, ci vediamo al prossimo video.